Quando vuoi, eh? Ok. Terza ed ultima parte della nostra assegna sportiva, stiamo parlando dello sfogo in conferenza stampa post-gara di Luciano Spalletti dopo il 4-1 contro il Palermo e le solite critiche sui singoli. Andiamo a vedere di che si tratta attraverso il portale la Roma24.it che appunto richiama con questo approfondimento anche video le parole del tecnico, un vero e proprio show, quello nel post partita di Luciano Spalletti che reagisce alla domanda di un cronista che sottolineava una sua precedente dichiarazione a proposito dell'ambiente. Prende letteralmente a testate il tavolo Luciano Spalletti, chi ti ha mandato? Dimmi per chi vieni, dice Luciano Spalletti. Che cosa vuol dire ambiente? Vuoi tornare sempre sulla stessa manfrina, ovvero che qui non si può lavorare. Poi naturalmente Luciano Spalletti se la prende polemicamente col giornalista, intanto inizia a chiedermi scusa per il fatto di avermi criticato per aver tolto Florenzi contro l'Austria-Vienna. Avete fatto la manfrina per due giorni, tutte le sostituzioni sono state per motivazioni da infortuni e stasera ho rischiato a farlo giocare. In una partita come quella di stasera in cui si vince 4-1 il problema è Juan Jesus, il problema invece è evidenziare che ha fatto gol Salah, El Sarawi, Dzeko che si è vinto 4-1. Non parlo di complotto contro la Roma, non è che ci sia un complotto, ci sono solo 3-4 persone che fanno il loro lavoro giocando sporco perché gli fa piacere tritare la Roma. Un termine molto forte con il quale Luciano Spalletti ha sottolineato uno dei temi portanti, un po' atavici della storia della Roma, ovvero quello di criticare a spada tratta per convenienze giornalistiche. Nell'ambito di una giornata nella quale la Roma comunque ha vinto sono arrivate anche situazioni di grande commozione per la Hall of Fame con alcuni storici protagonisti della storia della Roma che sono premiati e sono stati messi nella famosa muraglia della storia della Roma. Tra questi anche Toninio Sereso, il centrocampista brasiliano della Roma che si è anche commosso, un'immagine che ha fatto il giro anche del mondo e rientra a pieno titolo tra quelle più significative di un'appartenenza che va al di là appunto della nazionalità. Toninio Sereso, lacrime e anche cori per lui in un momento in cui appunto la Roma ha bisogno anche del suo pubblico, in realtà un pubblico anche un po' ancora una volta deserto, disertato in larga parte dell'Olimpico per le vicissitudini storiche con i problemi legati alle barriere. Nel frattempo la Roma è tornata già ad allenarsi in vista del Sassuolo, lavoro di scarico per chi ha giocato col Palermo, lavoro tattico per gli altri, individuale per Perotti, il prossimo avversario della Roma sarà il Sassuolo che non va oltre l'1-1 in rimonta contro il Bologna, Matri risponde a Verdi. La squadra di Di Francesco pareggia al Dallara e rallenta in classifica 1-1, quindi la squadra di Toradoni era passata subito al decimo grazie a una grande rete di Verdi, sempre lui direttamente sul calcio di punizione. Gioca meglio degli avversari nel primo tempo, nella seconda parte del match è più equilibrato, il Sassuolo rientra in partita soltanto però all'86 con Matri. Da segnalare, l'ingresso in campo all'88 di Federico Di Francesco, attaccante del Bologna e figlio del tecnico Eusebio Di Francesco, proprio del Sassuolo. Quindi una sfida in famiglia, una sfida invece che ha segnato forse una delle pagine più triste e più tristi dell'Inter degli ultimi tempi e la sconfitta contro l'Atalanta, De Burr ora traballa una sconfitta pesante dell'Inter 2-1 che probabilmente potrebbe costare tantissimo, potrebbe costare caro a Frank De Burr, un vero e proprio incubo per lui, continua a incassare sconfitte su sconfitte ma soprattutto anche una serie di decisioni molto contestate da addetti lavori e tifosi. Lui ha detto che possa solo lavorare duro ma non so se mercoledì ci sarò l'olandese dopo il KO contro l'Atalanta. Ha detto che abbiamo regalato il primo tempo ma nella ripresa siamo migliorati e sul suo futuro ha detto che è un momento difficile per tutti, specialmente per me. Sento la fiducia ma non posso dire se la settimana prossima sarò ancora in panchina. Qui a Bergamo è sempre difficile per l'Inter ma certo è un futuro decisamente in bilico per Frank De Burr. Il Corriere dello Sport non ci va giù leggero, ecco la foto anche un po' emblematica con un De Burr un po' accigliato. L'ultima chiamata potrebbe essere questa, l'ultima chiamata in attesa di novità dalla Cina in arrivo soci per l'assemblea di venerdì. Oggi altro vertice, la panchina secondo Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport è davvero appesa a un filo. Il filo che potrebbe reggere fino alla partita di mercoledì contro il Torino, un Torino in grande spolvero. Poi approfittando dell'arrivo a Milano di Jang Junior e di Toir mercoledì il direttore generale di Sunning, Jang Young. Ci sarà questa assemblea dei soci che potrebbe stabilire il futuro dell'allenatore olandese. Una doppia ipotesi, un nuovo ribaltone dopo quello dell'8 agosto con la sostituzione di Mancini quindi varrebbe come un'ammissione di errore da parte di Torino che ha scelto e voluto l'olandese trovando peraltro il pieno appoggio di Sunning. Assodato questo resta comunque la difficoltà di individuare un sostituto. Definitivamente quindi sono tramontate alcune piste, alcune ipotesi come Garcia e Prandelli andati rispettivamente al Marsiglia e al Valencia. Si tratterebbe quindi di decidere probabilmente per un traghettatore, si parla di Blanc che ha allenato in Francia il Paris Saint-Germain, addirittura di Capello, di Leonardo che però si sente più dirigente, addirittura di Bielsa dopo il caso di quest'estate Lazio-Non-Lazio. Altre piste per i traghettatori sono quelle di Guidolin, Pioli, Mandorlini che in queste ore sembra essere diventata molto calda e anche Edi Reia. Il pericolo però potrebbe essere, secondo il giornalista, dare un ulteriore segnale negativo quella cioè di ritenere la stagione già compromessa a novembre. Il sogno resta sempre Simeone, allenatore dell'Atletico di Madrid ma è un sogno che va valutato molto più avanti qualora ci siano le possibilità. La Gazzetta analizza un po' anche i temi a fondo per i quali l'Inter sta andando a fondo di per sé. Tutte le possibili colpe del momento duro e nero da Torir a Sunning, da De Boer alla Rosa, dal mercato ai tifosi. Colpa della vecchia proprietà, una tournée estiva prolungata, tifosi lontani, le malelingue che hanno detto detto che Torir spingesse per De Boer prima, molto prima che Mancini decidesse di chiudere il suo rapporto con l'Inter e poi tante colpe, ad esempio quelle che vengono date alla nuova proprietà, Sunning che ha investito molto lasciando però un presidente e almeno un pezzo di società in scadenza, il caos con questa doppia proprietà, le colpe del mercato con gli arrivi di Anzaldi, Candreva e Banega e Gabriel Gesùs ma molto anche spesso in ritardo come quella di João Mario, una lunga trattativa e poi naturalmente le colpe del tecnico sono quelle oggi come oggi più sotto gli occhi di tutti, scrive il giornalista sulla Gazzetta. L'assenza di equilibrio iniziale è stata sostituta gradualmente con l'assenza totale di una quasi idea di gioco. De Boer dopo le illusioni nella vittoria con la Juventus non ha trovato una quadratura del cerchio e da allora ha sbagliato tutte le scelte anche di uomini, gli automatismi difensivi sono lontanissimi, a livello psicologico i giocatori non sembrano motivati, i giocatori che hanno colpe a loro volta come quella chiara di tanti errori individuali oltre che di reparto, l'ultimo errore di Santon per il rigore che ha dato il via alla vittoria dell'Atalanta, poi naturalmente pochi movimenti senza palla, forma fisica rivedibile, scelte sbagliate, il caso Icardi e poi anche le colpe dei tifosi. Proprio con il caso Icardi la contestazione al capitano, la curva nord e il resto dello stadio divisi, a Bergamo Icardi tranne il gol annullato non ha mai tirato verso la porta, una situazione molto complicata. Dall'altra parte invece Milano ride nei colori rossoneri, in Montella si gode un grande momento, Scudetto no, bisogna frenare l'euforia, la Juve è una squadra marziana. Il successo contro i bianconeri ha proiettato i rossoneri al secondo posto in classifica, ma l'allenatore frena l'entusiasmo in vista della partita difficile contro il Genoa. Dobbiamo restare coi piedi per terra, Fiorentina ed Inter l'anno scorso l'andata erano nelle prime posizioni e poi abbiamo visto come è andata. Quello che so è che domani sarà una partita particolarmente difficile a livello ambientale contro un avversario che fa dei duelli agonistici e della tattica la sua forza. Sta parlando del Genoa che tra l'altro ha perso il derby e quindi avrà voglia di riscatto. L'importante è quello che dice Montella, avere equilibrio e predicare calma. Noi con questa notizia abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, quindi non mi resta naturalmente che rimandarvi alle prossime edizioni della nostra segna sportiva. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.